541 intimidazioni nei confronti degli amministratori locali in Italia nei primi nove mesi del 2021, un aumento del 16,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e se il record si registra in Lombardia con 79 episodi, la Calabria con 51 atti intimidatori e la Regione con l'incidenza più alta rispetto al numero di abitanti. Dopo il calo dello scorso anno legato principalmente alle chiusure per il Covid, sindaci e amministratori locali tornano pesantemente nel mirino e l'escalation di Siderno ne è la testimonianza. La vicenda di Siderno è proprio emblematica del fatto che dopo lo scioglimento si vogliano riportare le situazioni e le condizioni a livello di infiltrazione comunale a prima dello scioglimento medesimo, quindi è importante proprio fare questo collegamento ed è importante che ci si rivolga allo Stato e che lo Stato farà la sua parte come l'ha sempre fatto. I dati sulle intimidazioni contenuti in un dossier a cura del Ministero dell'Interno sono stati al centro di un incontro promosso dalla Prefettura di Catanzaro con sindaci e rappresentanti delle forze dell'ordine, riflettori puntati sul caso Siderno, domani la manifestazione di solidarietà organizzata dall'Anci Calabria, l'Associazione dei Comuni, ma anche sul rischio di infiltrazioni nei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dobbiamo essere tutti sentinelle sul territorio e stare in guardia per evitare che questi soldi possano essere poi finire diciamo nelle grinfie virgolette della criminalità organizzata. E poi lo scioglimento dei Comuni per condizionamenti delle cosche, una normativa che da più fronti si chiede di rivedere.